good morning youtubers l'altra sera ho finalmente provato l'edificio 21 di warzone 2 una mappa della modalità dmz che è disponibile solo a tempo limitato e a patto di trovare una carta per entrarci giocando sulla mappa base di dmz si tratta di una modalità sempre ad estrazione ma in una mappa molto ristretta nella quale ci sono quattro team di player e una concentrazione di botte lit davvero assurda oltre a qualche mini boss che gira nei corridoi dell'edificio è al solito misto tra pv e pvp però ultra concentrato abbiamo iniziato con la prima partita senza conoscere la modalità né che cosa fare esattamente siamo finiti poi a giocarci per tutta la sera arrivando a una serie di 10 estrazioni consecutive per poi fare anche la missione speciale delle 6 valigette da estrarre per prendere il progetto dell'arma chimera c'è voluta qualche ora però è stato davvero super divertente penso di non aver mai giocato così tante ore consecutive on code come in questa serata seppur la modalità sia alla fine la stessa cosa rispetto a dmz il fatto che tutto sia davvero concentrato in un'area piccola con tanti bot molto forti e player con la quale ci si incrocia spesso e volentieri rende l'edificio 21 un'esperienza davvero molto ben riuscita e che riesce a tenere incollati e divertire per un bel po di ore consecutive se siete come me tra quelli che hanno scaricato warzone per fare qualche partita così insomma ogni tanto e vi è piaciuta comunque la mappa base e il concetto della modalità allora dovreste provarla anche voi solo che bisogna aspettare i weekend perché si apra e sia possibile giocare edificio 21 abbiamo visto che comunque una serata è sufficiente per riuscire tranquillamente a portare a casa tutte le valigette con un po di gioco di squadra e io qui ero in game con bad company e ventura un ragazzo della sua community e potrete trovare il po di bad company sul suo canale credo settimana prossima quando caricherà i video relativi a queste partite e forse anche una mini guida su come prendere le sei valigette io non volevo fare guide semplicemente limitarvi a farvi vedere questa modalità se ancora non l'avete vista e lasciarvi qualche spezzone di diverse partite con le voci del gameplay di sottofondo quindi vi lascio le clip e detto questo noi ci vediamo al prossimo video vai liberamente non preghi fossero sulla rampe di scala ma venite vedi che un ascensore intanto vai si tirate dritta ma metto un giocamento ancora troppo ancora soltanto si vedete sparano qualcuno il wilson ciao qua 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 una terra una terra uno confermato ragazza usciateli però uno confermato a terra è rimasto uno merda stai restando stai restando stai restando stai restando stai restando fatto fatto fatta terra di nuovo e guarda che c'è magari un altro che parla ancora dobbiamo entrare veloci 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 veloce 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 bello 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 attenzione prima che ci becchiamo il team ok non è qua dov'è che bisogna sto correndo beh c'è un'altra porta qui però guarda davanti player player passato player passato player player perché era marrone era vestito in marrone ti ho visto vai li pusho le pusho le pusho uno confermato morto 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 bravo resta oh è un player o un un bot quello che mi sparava quello era un bot rossa chiave rossa la tiro su no c'è un altro player ok fatto bravo vento una test bravo ma serio era lì che cazzeggiava quello lì era il suo compagno secondo me non sono accorto tipo oh ragazzi che bella questa mappa ragazzi 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 e ma bad ci ha stampato la zona nel cevello ah sì è vero lui c'è la memoria no no è perché è la prima volta che stiamo oh due cazzo siete a me che vi perdo eccolo qua sparano sparano qua davanti eh sì che cazzo è è un player faccio il giro faccio il giro faccio il giro l'ho crackato mi sto facendo il giro tenetemi lì ci sono io ho fatto il giro è qua è qua è su sto corrigo di one vai fatto bravi bravi chiave rossa la chiave rossa mi sa che ce l'avevo già eh ce l'avevo pure io la chiave rossa allora questa è rossa 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 tieni tieni un po' nel corridoio di qua occhia sopra di uno ho visto dei ping strani player qua davanti a noi si stanno sparando player? sì qua davanti attivo una carica perforante uno è molto fatto uno fatti due un altro l'ho confermato morti via raga qua c'è una cassa di protezione butta 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 deve andare deve andare su noi eh non riesco dov'è dovrei andare come la trabutta io vai qua ma raga però così stiamo prendendo tempo attivo diamo venite ti rende visibile agli operatori nemici tenersi pronti ok vogliamo scendere subito sì no 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 andiamo a prendere subito le piastre andiamo giù gli sistemi di scansione sono fuori uso siamo ciechi No, il cazzo, mi scherzavo, è sta stronza qui che urla come non so che Allora il verde è qua Attenzione Player, 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 qua a mia destra Guarda me Eh, figa Un'arma ultra mega buildator, però Bella delphine, abbiamo uscito bella delphine Un rest, un restino Io ho capito, un attimo, poco Eh, era solo uno e basta, l'avete fatto? Non lo so Qui, 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 qui Eh, raga Player No, no, i bot tappano perché sono fatto Vittura Ok, uno confermato, qua giù Player, ce n'è ancora uno? Sì Sì, sento ancora il VoIP Sì, si stanno sparando là dentro, mi pare Arrivano a stordente C4, l'enico, attenzione Fatto Stai giù Ma sono Ma tirato giù qualcun altro Un altro player, fatto Ok Ok Ho confermato pure io un altro Rest, please Restalo Tutto a posto Ci sono io Uno l'ha fatto qua Da me è massimo No, un altro Un altro player ancora Camperato, fermo immobile dove sono io Camperato, fermo immobile dove sono io È disteso per terra, fermo immobile ragazzi Ma guarda come gioca questa gente È un bloc di merda Dietro la macchina? No, no, è sinistra, camion, camion, è sinistra Lì, lì dove c'è il camion È disteso per fermo immobile Aspetto Ho lanciato pure il buon simbetti, madonna Guarda lì è disteso, vento lo vedi? Ventu, guarda sotto il camion Lo vedi? Ehi là, madonna, mi ha laserato Ok, mamma Dov'è? Finca Ok, minchia Due o tre team ci siamo fatti Porca troia Boh, io ne ho fatti un paio Ne ho atterrati Io ho due o tre, non mi ricordo Sì, ma questo player che mi ha inciso a me Era un bot camperato Veramente, ma che schifo Doi altri passi? Sì, se l'hanno sento passi Sento passi Uno corre Ah, bot, bot, bot Eh, merda Ma è qua uno Vabbè Player? Era un player quello lì No, no, no Un bot del cazzo Devo prendere un attimino la sua arma Ci sono, resisti Grazie Eh Ma, ventuno Non so se è un player Player, player, player Forse l'ho buttato giù Non so Non so Non so L'ennesimo che apre la porta e non si sente Rialtala Grazie Non ho capito se l'ho buttato giù o no Sì, sì A terra le ho buttato a terra Stanno sparando dietro di noi anche Eh, sono i player che stanno triggerato i bot Io non sento niente Dall'altra parte, dietro di noi anche Eccolo qua Eccolo qua E' andato via E' andato via Poi Player Ma ho buttato giù? Da me player Da dietro? ok l'ho atterrato due player fatti da me ecco adesso un attimo max uno quello che ti ha fatto non l'ho confermato però non ho fatti due confermati qua la mia sinistra non so se l'autoress quello max venite sulle scale mette sulle scale ok un altro da un posto non posso venire sulle scale uno l'ha ferrato max sono altri due fatto un altro non ho più più astre di una donna vado a confermare infatti stava restando che l'altro che ho fatto non so se si è autoressato arriva max stanno sparando qua l'avanti e io peccato non devo far restare il tipo qua sento mi sa che è il primo italiano che becchiamo ho sentito un buio se la fai a coprirmi devo restare lui per quello che lo so ci sono resisti vai io c'ho il mirino adesso questo qui scale qua scale qua no sento un cazzino su i sistemi di scansione sono fuori uso siamo certi adesso col chiamera c'ho il mirino con l'arancione che fa delle sagome quindi ecco qua al buio sto mirino è fondamentale da dio player qua 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 player camparatti qua dai player camparatti no bocca ragazzi sono tre camparatti dove è lo spawn che schifo uno l'ho fatto che schifo dove sei max? lì dove ha ucciso max c'è un altro a terra usciatevelo che tanto al massimo ce ne rimane uno eh si c'è ancora un altro mi sa max questo è un botto di merda occhio nei camion hai fatto i blocchi di sicurezza 60 secondi l'avete fatto tutti? erano qua distesi max erano qua distesi in mezzo ai camion non so dall'altra parte se sono morti quelli che erano al fondo ma io non ho fatto uno ma no max erano quelli due si quei due ma c'era gente anche dall'altra parte dove le avevo pingate ah ok e mo ci andiamo quindi vuol dire che c'è un altro team dall'altra parte botto della minchia lascio dalle munizioni qui non lascio via non lascio via non lascio via non lascio via no ah entrate 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 ah l'estrazione più povera oh cazzo madonna mi son cagato player 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 no 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 dentro mi ha tirato giù no 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 due morti 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 vabbè lì che culo si ditemi che l'ha contata ditemi che l'ha contata io ero per terra e lo so però eri in vita tecnicamente minchia per fortuna si è chiuso e stavano arrivando altri due e ne stavano arrivando questo dio io l'ho battuti due l'ho battuti so do so 1 yes yes 1 però sì 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 Grazie a tutti